Eccoci qua, buonasera a tutti. Allora, io stasera con Rado ho deciso di venire qua, e mi verrebbe da dire mai settimana forse fu più propizia e opportuna, a parlarti della storia di una grande, colossale, incredibile menzogna. Una delle menzogne più incredibili che siano mai nate nella storia. Ed è una vicenda veramente paradossale, incredibile. Allora, siamo nel 1835, negli Stati Uniti d'America. E c'è un giovane, un giovane di belle speranze, diventerà uno dei nomi più importanti nella storia dell'intrattenimento e del circo. Sto parlando di Phineas Taylor Barnum. Tutti quanti abbiamo sentito almeno una volta parlare del circo Barnum. Bene, cosa accade? Accade che questo ragazzo ha un'idea. L'idea che il pubblico non debba essere cercato soltanto così, per fargli vedere delle cose divertenti, attraenti, no. Il pubblico deve essere cercato per creare una comunità, cioè una comunità di persone che si trovino coese dal fatto di credere tutte quante nella stessa cosa. E allora Barnum si inventa un circo nel quale non ci saranno soltanto i pagliacci, i trapezisti e i domatori, ma ci saranno anche dei numeri sensazionali. E fra queste, pensate, ce n'è uno. Un numero che farà passare alla storia Barnum, perché Barnum si inventa una donna anziana. Presa in chissà quale tugurio, chissà in quale zona malfamata della città, lui trova questa donna particolarmente deperita, particolarmente, diciamo, in là con gli anni e fa stampare dei grandissimi manifesti con scritto sopra, ripeto, 1835, stiamo parlando quasi di due secoli fa, con scritto sopra, venite a incontrare al circo colei che fu la balia di George Washington. Ed ecco centinaia, migliaia di persone che vanno al circo e pagano il biglietto entusiaste per guardare questa donna che racconta di quando George Washington, padre della patria, lei lo teneva sulle ginocchia e quando lo allattava e quando addirittura quella volta lo sculacciò. A nessuno viene in mente, o se gli viene in mente accantonano l'idea, che quella donna per essere veramente la balia di George Washington avrebbe dovuto avere 160 anni di età. Ma nessuno fa caso a questo, nessuno ci pensa, tranne la comunità scientifica che a un certo punto insorge e dice, voi state prendendo in giro tutte le persone di buonsenso, quella donna non può essere la balia di George Washington perché dovrebbe avere 160 anni, nessuno vive tanto. A quel punto Barnum insorge lui e dice, eh no, voi scienziati vi dovrete ricredere di tutto quello che state dicendo su me, sul mio circo, su Joy's Head, così si chiamava la donna, perché quando lei morirà io farò una grande autopsia, ve la farò fare a voi davanti a tutti e vedrete che a quel punto avevo ragione. 1836, la donna muore. E a quel punto Barnum tira fuori uno dei più incredibili numeri di business nella storia dello spettacolo. Pensate, 15.000 persone, spettatori paganti, entrano dentro un tendone di un circo per assistere ad alcuni scienziati veri che faranno l'autopsia su questo corpo. Gli scienziati sono ben felici di fare l'autopsia e arrivare in fondo dicendo, come vedete, avevamo ragione noi. Questa donna non soltanto non ha 160 anni, ma non ne ha neppure la metà. E a quel punto nuovo colpo di scena. Barnum si alza in piedi e davanti a 15.000 persone che non aspettano altro dice, eh no, signore e signori avete fatto l'autopsia a un altro cadavere, perché la verità è che Joy's Head è fuggita. Lei non è morta se n'è andata in Europa. E a quel punto per molti, anni, ci sono cittadini americani che sostengono di aver incontrato in un mercato di Parigi, in una fiera di Berlino, Joy's Head che festeggiava il suo 165esimo, 170esimo, 180esimo compleanno, ma nessuno interessava perché in una forma di autosuggestione collettiva quella doveva essere la balia di George Washington. E pensate, non servì neppure che a un certo punto arrivato in tarda età, lo stesso Barnum rilasciasse un'intervista dicendo, va bene, vi ho presi tutti quanti in giro, era una mia invenzione, Joy's Head, l'ho creata io. Le persone dissero che non era vero e che Barnum era stato costretto dalle autorità a dire una cosa che non era vera ma era falsa. Ecco, il vero e il falso. Alla fine che cosa sono il vero e il falso? Sono semplicemente ciò a cui decidiamo di credere. Ciò a cui decidiamo di credere e che ti qualifica, perché tu ti qualifichi per ciò a cui credi e quindi, se mi permettete, prima di lasciarvi, c'è chi senza ragion veduta decide di credere che Joy's Head sia la balia di George Washington e c'è chi invece, come me stasera, a ragion veduta decide di credere che un uomo che ha passato la vita a difendere i diritti degli esseri umani in una località di nome Riace non può essere condannato a 13 anni di carcere. Chiaramente le sentenze sono una cosa, il punto di vista di uno che viene qua a parlare è un'altra, però io mi qualifico per ciò che credo e quindi mi sento di dire stasera a Mimmo Lucano che forse ci sta ascoltando in una serata in cui ha detto oggi per me finisce tutto, no secondo me non finisce tutto perché così come ci credo io in te e in quello che hai fatto ci saranno tanti tantissimi altri. Ognuno si qualifica per ciò in cui crede. Ciao a tutti. Grazie.